super promo offerta di bing x sentite bene ragazzi possiamo andare a vincere in modo completamente gratuito un iphone 14 avete capito bene e in questo video andremo a parlare di come riuscire a sbloccare di far girare diciamo la ruota perché attraverso una ruota della fortuna possiamo andare a vincere questo premio ma ci sono naturalmente dei parametri da seguire e per chi è nuovo per chi non conosce bing x spieghiamoglielo in parole povere è un exchange di cripto valute dove possiamo trovare anche le azioni classiche e diciamo con le cripto con le azioni classiche possiamo andare a fare il trading trading future abbiamo anche sezione molto bella sul copy trading che vi lascio anche qualche video qui nelle schede se non lo conoscete ma penso che la maggior parte di voi già lo conosce quindi oggi andremo a parlare di questa imperdimile promozione offerta che ci fa bing x sia per i clienti che si devono iscrivere e sia per i clienti che sono già iscritti vi ricordo che vi lascio il mio link in descrizione per iscrivervi a bing x se avete sconti di commissioni a vita tra cui tramite il mio link potete accedere anche a queste promozioni ok questa in particolare e in più abbiamo anche dei premi in usdt in altre cripto valute ma ne andremo a parlare bene in questo video non è un classico tutorial come vi ho fatto sempre ben vedere ma naturalmente è facilissimo soprattutto per chi è già iscritto in bing x quindi che cosa bisogna fare prima di tutto l'evento è valido fino al 12 di questo mese quindi il 12 maggio ragazzi è partito qualche giorno fa quindi naturalmente fino al 12 maggio avremo la possibilità di vincere questo iphone 14 quindi durante l'evento ogni utente che raggiunge un volume di trading su future pari a 8000 usdt riceverà la possibilità di andare a girare questa ruota ogni partecipante potrà girare la ruota fino a 10.000 volte come dicevo prima abbiamo la possibilità di vincere oltre a cellulare dei premi usdt e in token sui naturalmente per partecipare ragazzi bisogna essere iscritti a bing x vi lascio il mio link qui sotto accumulare il volume di trading future di almeno 8 mila usdt come abbiamo detto prima in particolare sul future standard e sul future perpetual i trade devono essere aperti per almeno un minuto purché siano validi attenzione maggiore è il volume naturalmente maggiore la possibilità di andare a vincere premi elevati i vincitori dell'iphone 14 del token sui riceveranno il premio entro sette giorni lavorativi dalla fine dell'evento quindi entro il 19 maggio avremo la possibilità di ricevere i nostri premi invece i bonus in usdt vengono distribuiti immediatamente quindi se andiamo a vincere un 50 usdt girando la ruota questi ci vengono accreditati immediatamente oltre a questo bonus se non sei ancora utente di bing x e ti registri con il mio link in descrizione puoi ottenere uno sconto sulle fee fino a 5.000 usdt hai capito bene questo oltre a questo incredibile bonus dell'iphone 14 del token sui detto ciò ragazzi vi ricordo di entrare nel mio canale telegram noi ci vediamo al prossimo video qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti ciao a tutti